Quattro anni fa ho accettato di essere il protagonista di Si Può Fare perché ero entusiasta di diventare un inviato di The Show. Ma se vi dicessi che vi è stato nascosto qualcosa? Se vi dicessi che io e tutte le persone che hanno guardato Si Può Fare in questi anni siamo stati ingannati? Se vi dicessi che Si Può Fare non è mai stato quello che pensavamo? C'è un segreto dietro a tutti Si Può Fare che abbiamo fatto in questi anni che non è mai stato rivelato. E quello che mi ha rivelato dopo mi ha lasciato senza parole perché ho scoperto finalmente la verità sugli ultimi quattro anni della mia vita. Vivere sette giorni con un euro Un dollaro in mille dollari all'anno Un giorno pieni di pagare un solo con una pettorina già Un bambino fegale da un islam Un bambino senza vita Un bambino di spasso Ora che sai la verità sei pronta ad affrontare il più grande si può fare di sempre In Italia Cincin Cincin Mi fai sentire comoda Volevo tanto allontanarmi dai miei pensieri Sì ti hai detto che mi fai parte di parto Cosa c'è il problema? Cosa c'è il problema? Cosa c'è il problema? È un bambino con il bambino Se potevo venire a dormire è la casa vostra No Ale Ale Abbandono la sfida No abbandono la sfida Ale Ok vi devo delle spiegazioni Nei giorni scorsi avete letto su Instagram Che sono stato cacciato da The Show Per delle accuse piuttosto gravi nei miei confronti Devo scusarmi con tutti voi che siete qua ad ascoltarmi E ve lo dico senza mezzi termini Non era vero nulla Il mio unico obiettivo era portarvi qui oggi A vedere quello che vi ho appena mostrato Non è da me Sapete benissimo che non faccio questo tipo di cose E che odio questo tipo di comunicazione Ma era davvero importante che tutti voi mi ascoltaste Quello che vi ho detto prima è vero Dietro tutti si può fare c'è un segreto Un segreto che mi è stato tenuto nascosto Per tutti questi quattro anni In cui ho dato tutto me stesso a questo progetto E che è legato al nuovo video Di cui vi ho appena mostrato qualche spezzone Però non posso dirvi di più Fortunatamente manca pochissimo alla verità Ci vediamo qui l'11 ottobre 2023 alle 14 Scoprirete il segreto dietro tutti si può fare E vivrete con me Il più grande si può fare di sempre Volete saperne di più? Andate su Instagram perché sono stati tolti tutti i post Dall'account di The Show Nei prossimi giorni usciranno una serie di indizi Che vi accompagneranno fino alla scoperta della verità Grazie a tutti i nostri amici